Grazie Luca, in dieci minuti cercherò di rimettere un po' nel contesto gli interventi che mi hanno preceduto, io faccio il docente universitario, è il mio mestiere fare anche il cantastorie, raccontare, provare anche, ho la fortuna di riuscire ad astrarmi un po' anche dal contesto di business, dei processi, per provare un po' a guardare quello che avviene in un ecosistema come il nostro, che in questo momento sta attraversando una rivoluzione industriale, c'è una rivoluzione industriale in corso, ne avete sentito i protagonisti, ed è particolarmente corretto il tema di questa puntata, della roundtable di Nova, come i fattori produttivi vengono ricombinati, qual è il nuovo ruolo, perché una rivoluzione industriale, questo fa, riporta centralità a certi fattori produttivi, ridisegna soprattutto il vantaggio competitivo, crea dei nuovi hub, dei nuovi centri e, ahimè, disegna delle periferie. Senza dubbio la periferia digitale che si può prefigurare, inevitabile pensare, emergerà da questa rivoluzione industriale in corso, sarà un posto, non lo so descrivere, però sarà un posto molto triste da abitare. Noi non possiamo, cioè cosa sappiamo in questo momento della ricombinazione dei fattori produttivi in corso? Sappiamo che ci sarà senz'altro un displacement, sappiamo che certe figure professionali o certi processi, come avete sentito, verranno rivisti. Sì, particolarmente interessante il caso di ABB che ha proposto un elemento di servitization, ha dato il punto del servitization, ma poi anche Livio Scalvini come ha tratteggiato gli elementi di una banca che non fa solo più, come diceva Luca, il prestito, ma si trova a connettere soggetti economici. Il come sarà però, quali saranno le figure professionali, quali aspetti troveranno nuova centralità, ancora non lo possiamo sapere, possiamo fare delle speculazioni. E queste speculazioni, la prima è appunto quella che dobbiamo identificare una strategia per evitare di finire in questa periferia digitale. E sarebbe veramente triste che l'Italia ci finisse perché mentre Fabio Fantuzzi ci raccontava lo studio di Accenture, a me è venuto in mente che le dimensioni che stava andando a tratteggiare erano le stesse dimensioni che possono essere utili per raccontare quella che gli studiosi americani, gli economisti americani raccontavano come la terza rivoluzione industriale dove al centro come quasi paradigma organizzativo di questa flexible specialization, questa specializzazione flessibile c'era il distretto industriale. Allora Fabio, il rapporto Accenture parla di connettività e appunto la fabbrica si sta connettendo, la connettività è una caratteristica dei nostri distretti, l'apertura, un'apertura magari locale però molto importante, il ruolo del lavoro, lavoro distribuito, localmente ma distribuito, il ruolo degli utenti, il ruolo dell'utente come cosviluppatore, anche questo senz'altro centrale in un ecosistema che si chiamava distretto industriale. Allora la domanda che mi pongo come ricercatore di politica e di economia dell'innovazione è quello di andare a chiederci quali sono dei dubbi, quali sono delle domande, delle dimensioni per poter in qualche modo guidare queste nostre speculazioni per capire se effettivamente possiamo giocare un ruolo in questa rivoluzione industriale. Sentendo parlare le persone che mi hanno preceduto, ricombinando un po' di cose che ho letto e studiato, mi sono venute in mente queste cinque domande. Cinque domande che possono guidare un po' un percorso di analisi e predizione come dicevano prima sul futuro. Allora la prima domanda è quella della scala contro la specializzazione, cioè in un'economia basata sullo sviluppo di piattaforme digitali e che vengono ad investire il modo in cui anche produciamo possiamo immaginare delle situazioni in cui le economie di scala caratterizzano un risultato banale, il winner take all, la piattaforma diventa il centro di tutto. In un altro contesto possiamo invece immaginare che la specializzazione di chi si sposta, che si muove su questa piattaforma ha un vantaggio competitivo e crea valore. Quindi avete sentito poco fa il caso di General Electric, General Electric con un fatturato che se non sbaglio è il 10% del pilo italiano, diciamo che magari alla scala per poter arrivare a scommettere sulla creazione di una piattaforma caratterizzata da una grande forza aggregatrice. Altri soggetti possono invece trovare un'altra strada e quindi scommettere più sul fatto che una sharing economy, un'economia basata sulle piattaforme, dia la possibilità di nuove strade, nuove traiettorie imprenditoriali. Quindi oltre alla dimensione del big corporate che ha bisogno di scala, possiamo immaginare anche una nuova opportunità di specializzazione caratterizzata da nuove strade imprenditoriali. La seconda dimensione per guidare appunto questa speculazione è, ritorno un po' alla provocazione iniziale di Luca sul ruolo dello stipendio e dell'ammortamento, allora proviamo a buttarci dentro anche il ruolo dell'utente che è stato citato qua un po' da tutti, come ridefinire il nostro ruolo come cittadini, utenti e lavoratori. E questo è un elemento interessante che dobbiamo un attimo inquadrare, non è chiaro se l'equilibrio, anzi è senz'altro superato l'equilibrio di un rapporto lavoratore che produce in un'azienda e poi utente che utilizza il bene o il servizio. C'è senz'altro sempre maggiori possibilità di cosviluppo, in cui l'utente diventa anch'esso un soggetto che di fatto contribuisce alla produzione. Le piattaforme di qui sopra hanno come obiettivo quello anche di monetizzare il tempo che come utenti andiamo a dedicare nel momento in cui facciamo le nostre ricerche online, diamo i nostri i like o chiediamo un passaggio o mettiamo a disposizione un posto in auto. Collegato a questo entriamo un po' in una dimensione di policy e ci chiediamo quale nuovo contratto sociale, perché in questo momento a valle di una rivoluzione industriale il nostro sistema di stato sociale è basato su una impostazione sulla centralità del lavoro. e centralità del lavoro, ecco, se il lavoro cambia, se questo fattore produttivo viene ricombinato e viene associato, viene affiancato ad uno sforzo nostro come utenti, qui dobbiamo anche rinventarci un po' lo stato sociale. Non possiamo più basarci sul paradigma di Henry Ford che dice io faccio delle macchine, le prezzo in una maniera in cui i miei lavoratori possono comprare l'autovettura. in questa equazione deve venire fuori anche l'utente. Quarta dimensione, nel raccontare i casi che si sono succeduti a BB General Electric in Tesa San Paolo avete visto come ci sono delle diverse strategie di posizionamento nei confronti di questa piattaforma. una strategia di piattaforma, di creazione piattaforma che può essere piattaforma di piattaforma o sotto piattaforma che a sua volta si compone di diversi moduli oppure una strategia di nicchia, un posizionamento all'interno di un'altra piattaforma oppure una terza dimensione può essere una strategia di complementarietà e quindi di affiancare la strategia di aziende che si posizionano o come modulo o come piattaforma. ecco anche il nostro Made in Italy, Made by Italy o gli nostri asset competitivi devono chiedersi nei diversi mercati in cui siamo presenti siamo piattaforma, siamo modulo o siamo un asset complementare di strategia di altri. la quinta dimensione è forse un po' secondo me quella che potrebbe dare il gancio al momento conclusivo di Samaritani e forse alla puntata successiva di queste tavole rotonde qual è il nostro atteggiamento nei confronti della tecnologia? perché stavo leggendo in treno, venendo qui, un paper pubblicato da due professori dell'University of California Zeisman e Kenney che dicono una cosa secondo me importante non sarà lo sviluppo delle tecnologie a guidare il nostro benessere, il nostro sviluppo saranno le scelte che faremo sulla base dello sviluppo delle tecnologie e delle scienze che ci porteranno a seguire una traiettoria piuttosto che un'altra e quindi anche nel confronto con lo sviluppo dei big data, del cloud e quant'altro l'approccio determinista, un certo determinismo, fatalismo nei confronti dello sviluppo di queste tecnologie è una delle scelte un'altra potrebbe essere una posizione attendista è una posizione attendista che porta in qualche modo a scartare certe ipotesi e focalizzarsi un domani come fast follower o late follower le strategie scelte dagli altri oppure un atteggiamento propositivo di lobbying attiva nei confronti di certe regole che favoriscono altri mercati e non il nostro è evidente che queste sono scelte che sono a metà tra la politica di un paese la politica industriale e le scelte di strategia aziendale però ecco io ritengo che uno stato come l'Italia che si trova in una posizione molto interessante da un punto di vista del suo posizionamento nelle precedenti rivoluzioni industriali abbia il dovere di prendere di scegliere una strada e di scommettere su certe traiettorie per la nuova rivoluzione industriale per capire come possiamo riprovare a fare una ricombinazione di fattori produttivi che ci guadagnano che ci portano a nuovo vantaggio competitivo questa è un po' la sintesi di quello che ho sentito vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti